street opera con lord bean prima scelta del nostro primo ospite Omar Rashid benvenuto su radio elettrica buongiorno Omar buongiorno a tutti si è una giornata difficile lo capisco anche per noi lo è pensa che dobbiamo fare tre ore di diretta va bene così allora Omar la grazie intanto per essere qua con noi parliamo di questa prima scelta che ci ci piace particolarmente ci ricorda dei bei tempi del del rap italiano allora io sono cresciuto diciamo nell'ambiente hip hop qualche maniera vengo più dal mondo dei graffiti però tipo appunto all'epoca perché comunque sono del 79 diciamo sono cresciuto proprio nell'inizio di questo movimento era tutto molto più coeso quindi rap graffiti breakdance eccetera eccetera e street opera in qualche maniera è un brano manifesto per lo meno se tanto mi riguarda perché comunque racconta un po diciamo anche il mio tipo di attitudine nei confronti di quel mondo e nei confronti della vita in generale tra l'altro prima fuori onda commentavamo che è tra il tenero e il nostalgico sentire un un brano dove le parole si comprendono si comprendono veramente e il testo il valore del testo è sicuramente più alto in una scala da 1 a 10 di caccapupù puzze e toni f decisamente sì ovviamente niente un brano a cui sono molto molto affezionato lord been ormai è luca barcellona un grande calligrafo grande calligrafo del mondo è anche un amico e quindi ci tengo tantissimo a questo brano e quindi dato che si passa da con un punto intermediale dalla rap alla alla calligrafia alla grafia andiamo dentro generazione fumetto che è il tuo progetto che attualmente è ancora aperto cioè in timeline tu non hai finito il lavoro perché hai girato nuove scene nuove interviste a questo lucca generazione fumetto zero calcare scena uno take uno sono sio sono mirca andolfo sono giacomo bevi l'acqua sono adita betruccioli sono michael e mirco sono sarah pichelli sono michael rec ovvero zero calcare faccio i fumetti fumetto è un arte sequenziale leggere per me è stato leggere fumetti un bellissimo mezzo per raccontare una storia modo semplice per raccontare cose difficili è bellissimo che ha il lettore che decide quanto veloce va a quella pagina e quindi io ci devo stare devo stare alla scrivania devo stacce dalle sette del mattino fino al mezzanotte sono timido io non sono capace a parlare con le persone manco con la mia famiglia spesso e molte cose se non avessi avuto i fumetti per fargliele leggere non le saprebbero ancora adesso non solo una forma d'arte importante ma anche una delle più complete raccontaci che cos'è generazione fumetto e com'è composto in questo momento allora generazione fumetto è un documentario che diciamo io ho la fissa del linguaggio in generale un po in tutti i progetti che sto facendo cerco sempre di interrogarmi sul linguaggio soprattutto quelli underground quindi non a caso appunto anche il rap o i graffizi includo in quel mondo lì e il fumetto l'ho affrontato nello stesso modo cioè come un medium come linguaggio e l'intenzione è quella di raccontare la potenzialità che ha che cos'è e che potenziali ha questo linguaggio attraverso lo sguardo di sette artisti diciamo di una generazione specifica che è chiaramente una selezione chiaramente non sono ciò ce ne potrebbero essere altri trenta tranquillamente che mostrano altrettante sfaccettature diverse però ovviamente come tutti i progetti che devono stare diciamo dentro un una cornice temporale è necessario fare una sintesi e quindi diciamo io ho identificato in sette artisti della mia generazione in qualche maniera coloro che in qualche modo hanno un po rotto diciamo la scatola dell'industria come era concepita prima assolutamente vuol dire che punto prima non ci fosse un movimento dal basso un modo di approcciarsi a questo linguaggio totalmente diverso ma sicuramente sia per una questione grafica cioè persone che come me sono cresciute leggendo punetti e non hanno mai smesso perché perlomeno io non l'ho mai fatto e non ne sono mai vergognato perché credo anche un discriminante fattore indifferente e in più hanno avuto diciamo la fortuna di vivere l'avvento di internet che naturalmente ha contribuito a sovvertire diciamo le regole nel senso che comunque se penso a io da ragazzino volevo fare i fumetti vedevo veramente insormontabile la barriera della tecnica diciamo di ciò che finiva poi in edicola o in al tempo quasi solo in edicola al massimo in biblioteca già in libreria era difficile trovare i fumetti però diciamo era impensabile che un zio o gli scarabocchi di michael e mirko fossero finissero proprio in accanto a tex accanto a direndo che comunque io poi sono cresciuto anche con domino buffo di francesco artibani cioè che in realtà colui che l'ha portato avanti però che era presente su cattivic o luogo alberto non ricordo che comunque aveva un tratto molto ingenuo semplice e replicabile no che è quello che poi poi mi interessava a me di questo tema di questo linguaggio cioè il fatto che veramente con un foglio da penna potevi fare un documento mentre già costandosi nel cinema è impensabile no che senza soldi non riesci a fare qualcosa di di grosso assolutamente e già ora sono cambiate le cose grazie sempre le sette voci che troverete in generazione fumetto il documentario che vi stiamo raccontando in anteprima perché appunto al momento abbiamo visto i 30 minuti presentati a lucca comics quindi probabilmente una persona sicuramente una persona che ha mandato il messaggio in questo momento sulla chat di whatsapp potrebbe aver visto il documentario perché era a lucca ma le sette voci che sono al centro del documentario sono mirca andolfo giacomo bevi l'acqua rita petruccioli sarah pichelli michael e mirco che contano come una persona ma sono due si io e zero calcare quindi la fotografia è esattamente un momento storico appunto li abbiamo avuti tutti l'anne forse giacomo bevi l'acqua no no giacomo c'è stata sarah pichelli si io e sarah pichelli ci mancano io c'è sono tutte persone che sono anche passate anche in qualche modo siamo anche noi dentro quella scatola che loro hanno rotto la fotografia di questo momento anche di passaggio tu raccontavi la tua esperienza della l'idea del fumetto quando lo leggevi e basta adesso appunto anche anche per loro sono cambiate delle cose anche sotto le loro mani perché il fumetto era prima come dice tra l'altro giacomo bevi l'acqua la loro la nostra la loro generazione è la prima che ha avuto un su un istantaneo feedback dopo la pubblicazione di un disegno un progetto grafico un fumetto un un webcomic adesso si direbbe grazie alla rete grazie alla rete è notorio notorio il blog di zero calcare che poi ha prodotto quello che zero calcare adesso senza l'uno non c'è l'altro però appunto è dirompente la differenza tra la prima generazione prima il fare fumetto prima il riuscire a pubblicare anche prima le autopubblicazioni sono sempre state ma appunto c'è stato un punto di svolta e anche una velocità differente tra prima e dopo l'avvento dei social network l'avvento di internet perché appunto anche i blog il quel momento storico ha creato molto e adesso che ci sono appunto seo è in in edicola tra l'altro mi sa che proprio oggi esce scottek gigasin ed è veramente accanto a nella proposta mainstream della dell'edicolante sotto casa è accanto a diabolic text di un dog e omar una cosa rispetto abbiamo un po affrontato il discorso della tecnica lo dicono anche nel i nostri protagonisti nel documentario no che non è più un discorso di tecnica cioè non è solo un discorso di tecnica che ovviamente in molti di loro anche in quelli che fanno le cose più semplici in realtà poi c'è dietro un lavoro ovviamente di artigianalità che non manca mai però secondo te qual è stata la componente che ha fatto la differenza una volta smontato il discorso solo tecnico solo del talento tecnico ciò che dice rispetto alla generazione eh esatto sì 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 anche nella diffusione eh del fumetto stesso ora parte internet no cioè c'è un qualcosa che va oltre eh che ne so il contenuto l'intenzione il messaggio un po' tutto eh secondo te ovviamente certo secondo me sì nel senso che eh cioè questa è una mia deduzione nel senso che eh indagando ristudiandomi ripeto per me è stato anche un lavoro tra virgolette semplice nel senso che rispetto a tanti lavori di solito quando uno fa un documentario da me informarsi molto io ero già una persona informata sui passi continuando a leggere eh ho scoperto relativamente poche cose però diciamo la mia riflessione è sul fatto che questa generazione per tutto quello ci siamo detti aggiungo giusto una parentesi che un altro componente fondamentale secondo me dell'avvento internet è anche la possibilità di portare i suoi lavori all'estero no? Ah certo! Cioè proprio il tuo portfolio eh cosa che appunto era molto difficile da fare prima invece se non viaggiavi non c'è una Sara Pichelli sarebbe difficilmente emersa senza la possibilità di mandare una mail e per appunto dare l'impatto di questa mail di Sara Pichelli e Spider-Man non avrebbe la forma di adesso nell'immaginario mainstream di appunto l'uomo ragno senza Sara Pichelli eh forse magari la gente il nome non lo conosce del tutto però invece vai vai e comunque diciamo la riflessione dove sta nel fatto che questa generazione a livello di fumetto italiano ha raccontato molto di più eh l'Italia l'Italia la nostra società le nostre eh come dire eh anche le imperfezioni della società le controverse eccetera eccetera cosa che nei fumetti precedenti era molto schermata cioè se penso a tutti non vorrei sbagliarmi ma quasi tutti i bonelli comunque sono ambientati all'estero no? certo penso se penso a Dylan Dog a Londra Martin Mister a New York Diabolic a Clareville e cioè proprio è fisicamente un altro luogo certo sì erano comunque raccontavano storie che non ci appartenevano in qualche maniera comunque ci appartenevano di riflesso Zero Calcare racconta le Bibbia racconta la provincia ora ho visto in questi giorni la serie delle Acidolo Moragno sugli 883 che comunque racconta come parte del successo degli 883 sia stato il fatto di raccontare la provincia in qualche maniera è un po' la rivincita la rivincita dei nerd e in qualche maniera io ci vedo questa cosa qui nel senso che appunto sia cioè i lavori un po' di tutti e sette hanno molto di loro dentro anche nello Spiderman disegnato da Sara Pichelli comunque c'è un po' di Sara come è naturale che sia e quindi secondo me questo sicuramente ha contribuito a renderli diciamo più potabili anche per chi usciva dall'infanzia nel senso che comunque ci si rivedeva molto cioè quello che dicevano tutti quando esplose il fenomeno Zero Calcare è che ci si rivedevano cioè parla di me sono io uguale io così cosa che in passato faccio fatica a ricordare cioè l'unico perché non è il vero precursore di tutta questa ondata ma è di una generazione precedente Gifi pensavamo lo stesso nome esatto si 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 raccontava a te stesso e in un modo totalmente diverso utilizzava anche lui internet però diciamo se Gifi è stato quello che i giovani dicono mio padre gli altri comunque hanno creato secondo me un movimento più coeso nel senso che comunque è un po' un tratto distintivo di tutti Gifi rimane un po' una mosca bianca in qualche maniera il primo però era un'anomalia in qualche maniera l'avanguardia sì un po' l'avanguardia senti Omar dal punto di vista pratico a che punto siamo quando possiamo pensare più o meno se lo puoi dire diciamo di vedere generazione fumetto diciamo in un contesto più ampio perché i primi 30 minuti sono fulgoranti molto interessanti infatti voglio vedere dove va avanti ne voglio di più ne voglio di più sì allora no diciamo che siamo a buon punto nel senso che io potessi continuerei a girare per sempre ma il mio produttore non è d'accordo e quindi siamo diciamo a chiudere io ho già una versione di 100 minuti più o meno in contata vorrei scendere a 90 includendo quello che ho girato a Lucca in realtà c'è un altro paio di cose da girare ma si parla veramente di poche battute e l'intenzione è quella di averlo pronto per febbraio ah ok bene e diciamo l'ambizione più grossa è quella che comunque questo progetto diventi diciamo il lancio di un altro progetto più ambizioso che è quello di creare una serie monografica su ognuno di loro questo è proprio una cosa decisa in preproduzione nel senso che comunque è proprio perché quando vai a girare un documentario del genere o lo scrivi tutto e vai a fare esattamente quello che ti serve oppure nel caso di come l'ho affrontato io è stato di creare più materiale possibile e poi scriverlo diciamo in montaggio con l'intenzione di avere molto materiale per poter fare sia il film che una serie monografica o antologica per le tematiche comunque i temi sono tanti e ripeto in questo momento è veramente difficile decidere cosa tagliare perché comunque le cose che dicono sono veramente interessanti e mi piacerebbe appunto portarle fuori molto di più di quanto non possa fare Certo Dai 30 minuti che abbiamo visto veramente vi consigliamo caldissimamente di seguire questo progetto Sì 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 aspettate questo febbraio questo probabile febbraio 2025 lo aspettiamo anche noi ovviamente grazie mille ad Omar Rashid abbiamo parlato del suo docufilm Generazione Fumetto la tua seconda scelta? Un pezzo di cuore che grazie appunto a questo gioco dell'ospite porta i dischi abbiamo sentito appunto Fritz The Cat ma anche Plafone, Elio Lestretese e Antonella Ruggero Ci sarebbero talmente tante motivazioni dici la tua però Vale anche il perché sì Vabbè perché sì ovviamente anche Elio Lestretese sono un pezzo importante della mia formazione da sempre anche con loro diciamo conoscete e collaborarci che ho curato per loro il merchandising per tanti anni e Plafone in particolare cioè del disco Studentessi che è il disco che segna diciamo l'inizio della mia collaborazione con Via Lestretese ed è il mio pezzo preferito Via Lestretese perché secondo me racchiude un po' tutta la adolescenza cioè tecnica pazzesca e comunque anche una voglia di continuare a giocare e rimanere diciamo nel mondo appunto ludico dell'infanzia in qualche maniera che è sempre stato qualcosa che ho portato avanti e ho cercato di non perdere mai nel corso della mia vita Magnifico È un buon obiettivo direi Grazie davvero Grazie mille Omar A presto Ci risentiamo intorno a San Valentino a questo punto Ciao Grazie molto Ciao